Quinta festa dell'anziano, Ortona primeggia per la sensibilità verso il sociale, con noi c'è Leo Castiglione che è l'assessore delle politiche sociali. Ormai la festa dell'anziano è diventata un'istituzione per la nostra città, a dimostrazione della sensibilità e dell'attenzione che l'amministrazione rivolge appunto alla terza età. E così abbiamo portato un sorriso, una testimonianza di solidarietà ai ricoverati della nostra casa di riposo. Dopo siamo andati in ospedale a trovare gli anziani che purtroppo sono ricoverati e passeranno le feste natalizie appunto in ospedale. Nel pomeriggio al Teatro Tosti abbiamo avuto il primo momento culturale e veramente molto interessante in cui abbiamo affrontato l'argomento che è l'anziano oggi, il nuovo stile di vita e di consumo dell'anziano. Queste coppie longeve, legate dall'amore, dall'affetto per una comunità che non vuole assolutamente dimenticarsi di loro. Sì, oramai è una tradizione consolidata della nostra città. Durante le manifestazioni del 28 dicembre, le manifestazioni della liberazione di Ortona, facciamo questa cerimonia della consegna di un attestato, di una targa, alle coppie che hanno fatto 50, 60 e un paio d'anni che premiamo anche quelle che hanno fatto 70, 71 anni di matrimonio. Quindi vuol dire che il matrimonio allunga la vita. Grazie.